Il 2019 è stato un anno tragico sulle strade salernitane e a conferma di questo dato terribile la conclusione peggiore con la morte di Marta Nadei, la giovane giornalista ferita mortalmente in una caduta in sella al suo scooter sulle strade di Salerno. Ma prima di lei una lunga scia di sangue ha accompagnato questo anno tremendo sulle strade salernitane, impossibile citare tutte le vittime. Un anno anche di fuoco sul fronte della cronaca. Tre episodi in particolare l'incendio del Monte Saretto a Sarno in un territorio già devastato, l'incendio di rifiuti a Battipaglia con la popolazione insorta contro la preoccupazione dei roghi tossici ed infine pochi giorni fa il terribile incendio alla multitask di Roccapiemonte. Poi le frane, terribili anche queste che hanno paralizzato strade e messo in ginocchio la costiera cilentana ma soprattutto quella malfitana dove solo un miracolo ha evitato il peggio la settimana prima di Natale. Ha reagito bene invece la città di Battipaglia, la mega operazione di disinnesco dell'ordigno bellico che ha paralizzato la città della Piana del Sele per una giornata utile a rendere innocua la bomba della seconda guerra mondiale ritrovata mesi prima. Tra gli episodi più terribili la morte del giovane turista francese Jean Bocatier nel Cilento, caduto in un dirupo e ritrovato senza vita dopo alcuni giorni. A Salerno la morte in classe della giovane Melissa, la studentessa del liceo da Vinci di Salerno stroncata da un arresto cardiaco che ha insegnato a tutti quanto importante sia la prevenzione. La cronaca nera riporta purtroppo alla memoria anche la morte della piccola Yolanda Passariello, la bambina di otto mesi morta a Sant'Egidio del Monte Albino per lesioni delle quali devono rispondere i genitori. Tra le operazioni di cronaca all'inchiesta scandalo sulla commissione tributaria scoperta dalla finanza con mazzette per pilotare sentenze, la più recente operazione sulla gestione della sicurezza davanti ai locali pubblici portata avanti dai carabinieri a Capaccio, l'omicidio di un 33enne, una lite per futili motivi alla base dell'attacco sferrato a colpi di coltello da un 25enne. Chiudiamo però guardando al buono. Il 2019 sarà per la provincia di Salerno l'anno della svolta per l'aeroporto Costa da Malfi. La fusione con la Gesac e l'aeroporto di Capodichino è la migliore notizia per un anno di cronaca di questo 2019 in provincia di Salerno.